Musica Liberi.tv Riccardo Cristiano Siamo nuovamente al Castello di Savuto questa volta invece per uno spettacolo di prosa che si chiama Cola dove il regista è una persona che conosciamo molto bene ovvero Marco Silani che è qui di fronte a noi insieme ad Andrea Puglisi che invece interpreta questo spettacolo teatrale vogliamo chiedere proprio a Marco Silani che è attore versatile capace di interpretare già vari ruoli solenni da tutti i punti di vista tra l'altro c'è un altro film che secondo me lo richiama molto che è il racconto calabrese del 2015 quindi diciamo che Marco lo conosciamo bene però vogliamo chiedergli informazioni proprio su quello che vedremo questa sera ovvero Cola Intanto grazie per questa intervista Cristiano intanto sono contentissimo di essere di nuovo qui a Credo perché ci torno sempre volentieri siamo riusciti ad esserci anche quest'anno Cola Cola è uno spettacolo giusto come dici tu di prosa è uno spettacolo dai contenuti molto forti insomma è uno spettacolo veramente bello io ricordo che quando Andrea me lo propose io ho letto questo testo sono rimasto veramente colpito dalla freschezza dalla bellezza di questo personaggio è un personaggio insomma non per fare scoprire molto insomma agli spettatori poi magari per venire a vedere però è un personaggio un po' sulle righe è un po' un ragazzone che non è riuscito a crescere ancora però è pieno di valori e alla fine ci fa capire che forse la verità sta più nei bambini o nei bambini nei ragazzi non cresciuti rimasti ancora bambini che non nell'essere umano in generale Cola ci dà una lezione di vita io non ho fatto altro che con l'aiuto insomma di Andrea perché è un attore bravissimo versatile che mi ha seguito pedissequamente è stato tutto molto più semplice quindi seguire il testo che è bellissimo scritto da Stella Saccà e a chi ha scritto un capolavoro quindi per me è stato molto facile lavorare con un testo bello con un attore bravo è chiaro che poi la regia ti diventa tutto molto più semplice ho trovato dei contenuti che mi sono propri che mi ci sono ritrovato e quindi è stato più facile farli emergere a questo punto chiediamo Andrea Puglisi come si è trovato nelle vesti del protagonista e se è riuscito a rilevare all'interno insomma della personalità del protagonista qualche aspetto che non so lo richiamo o addirittura fa parte della modernità attuale pensando un po' non so ai classici bamboccioni di cui si parla o al cellulare che ormai è diventato siamo schiavi del cellulare allora buongiorno inserito ti ringrazio per l'intervista allora l'idea è nata parecchi anni fa ero piccolino devo dire una cosa allora il testo è tratto da Usapiti com'è che è un'opera siciliana un'opera in vernacolo siciliana e io una decina di anni fa ho assistito per l'ennesima volta Marco all'anno diciamo allo spettacolo Usapiti com'è a Catania e nello spettacolo questo spettacolo parla di Cola che è un ragazzo diciamolo in maniera molto molto semplice un ragazzo ritardato è un ragazzo che ha un problema di ritardo mentale Cola veniva sempre trattato come lo scemo del villaggio quindi la classica commedia in vernacolo dove c'è lo scemo tutti che lo prendono in giro allora già dieci anni fa mi è venuta in mente l'idea ho detto ma Cola è solo questo e allora cosa abbiamo fatto insieme a Stella Sacca che ha scritto un capolavoro come abbiamo detto prima siamo partiti dal non detto da ciò che Cola sogna la mamma dice no non sono cose per te da ciò che Cola vuole fare e alla fine non fa siamo partiti da questo abbiamo scritto tutto quello che Cola non dice nel testo originale pur parlando pur tenendo la linea del testo del testo originale che è Usapiti com'è se ho trovato qualcosa di bello in questo spettacolo sicuramente le persone che mi hanno aiutato Marco non c'è bisogno di presentazioni come abbiamo detto prima non ci conoscevamo ci eravamo visti solo per un altro dei suoi spettacoli bellissimi spettacoli per Cabaret se non sbaglio e io proposi questo spettacolo a Marco che ha accettato di buon grado da lì una serie di cose una serie di accadimenti una serie di cose che ti fanno capire che il teatro è quello forse il mezzo comunicativo per eccellenza la televisione ci propone senza disprezzare però spesso ci propone come dire qualcosa da rivurgitare da buttare giù questo spettacolo grazie a Marco grazie a Tommaso Sassi Benedetta Nicoletti e grazie alle produzioni Arciere e Fondamenta è qualcosa che mi ha permesso tramite loro di raccontare una storia e questo è quello che un attore dovrebbe fare raccontare una storia grazie a Tommaso Sassi